Il napoleone mangiava? No! C'ho una buffa piena E' difficile vestirsi Ecco perché molte donne vogliono rimanere Vogliono essere nude Entro nella macchina Caro principe come va? E' l'imperatore ci sta Signori principi Lidio Forza Ruspoli Carlo Massimo Anna Maria Arsenio E lei è un'ambasciatrice La ragazza della Volpe Rossa Molto ammettito Complimenti cara Bella 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 Quasi cardinalizia Ti vota Mario? Ti voto Mario mi vota Perché se no non lo fanno Presidente degli Stati Uniti E' il ceppo contadino Lei è il principe contadino Io sono fascista Vabbè io lo accompagno Siamo fratelli camminiamo insieme Siamo fratelli camminiamo insieme Siamo fratelli camminiamo insieme E' il E' il Olè!